Ciao ragazzi, sono LenXD e mi è uscita scritta una frase Senti una presenza malvagia che ti sta guardando Sì, mi è uscita scritta tipo qui dove c'è scritto Sei morto, LenXD morto E sto fatto non mi piace, giuro ma mi sta facendo rabbrividire Peggio di amnesia Chi Cristo è sta presenza malvagia? No davvero mi ha fatto rabbrividire Non è che sto scherzando, non è che c'è qualche mostro qui, no Sembrerebbe di no Io spero che per non guardare da altre parti Uh, che cazzo è? Quanti funghi ci sono lì? Oh, fighissimo quella parte Però non mi piace il fatto della presenza malvagia che mi sta guardando Dov'è sta presenza malvagia? Così sembrerebbe di no Aspetta, andiamo prima qui tipo Sì, vorrei sempre illuminarmi bene per vedere Vedete, ho anche preso i stivali per camminare sopra l'acqua E ho preso tante altre cose Tipo il piccone di ferro E Cioè, eh sì, il piccone di ferro L'ho detto bene E tante altre piccole cose come il doppio salto Non so se l'avevo detto l'altra volta Il doppio salto poi che più La velocità, cioè, vado più veloce dopo un tot che cammino Dopo un tot di tempo che cammino Sa, se mi prende qua sta presenza malvagia Mi fa il culo Maledettamente E poi altre cose Come vedete sono andato abbastanza profondo Tipo ho scavato tutto questo E E niente, ho scoperto tante cose Sì, lo so La stanno La stanno di po' L'argento Però Anche qui se non sbaglio No, no Però Ecco, vedete Questo è il doppio salto Però Per ora Non lo voglio prendere Perché sto quasi pieno Ah, questo è lo smeraldo? Sì, ok Ci ho azzeccato Ma figa sta cazzocina No, raga Ma che ho scoperto? Cos'è qua? Ma dove sto? No, no Sto sotto quasi casa mia Allora che cazzo è Questa cosa? Questa è acqua? Sì, dovrebbe essere acqua Dai, ce l'ho quasi fatta Sta il maledetto Sto coso maledetto Che è una donna mia Quando ne arrivano un sacco Mi tolgono un bordello di vita No, qua non scaviamo Altrimenti Questa dovrebbe essere Tipo acqua No, non è acqua Non è È blu È tutto blu Ma cos'è? Blocco di pietra Blocco di pietra Questo cos'è? Blocco di pietra E allora Perché c'ha sto coso blu? Ragazzi Non ne ho la più palle di idea Fungo luminoso Guarda quanti sono fighi questi funghi Non ne ho la più palle di idea Fungo luminoso Cioè Se lo prendo Tipo Ma l'ho finito tutto Cioè Non lo so Buttiamo noi blocchi di terra E poi come faccio? Eh Buttiamo questi Eh Dio santo Non c'è più spazio Buttiamo Stato Dello slay Non so Mi piace Ti posso pietre nere Non lo so Oh Questa non me l'avevo neanche accorta Di averla 16 danno Accorto Alta velocità Spintore medio Oh Wow È molto meglio Della spadone d'oro Per quello Mettiamola al posto Della spadone d'oro 4% velocità 4 no È molto più forte Oh eppure No Eppure è bella grande Anche quello che è molto forte È questo No Vabbè oltre questo Questo qui Perché ha un raggio d'azione molto ampio E questo boomerang Che sembra una schifezza Invece no È molto forte Devo dire la verità Mi ha sbalordito Qui non so Troviamo sempre sì Le solite stranzate L'oro Eh vabbè Devo fare così Per prenderlo per forza Scusate Vabbè metto la torcia Dopo la tolgo Perché Cioè io quando registro Non ho mai le torce Cioè ma Vi pare possibile Ma è possibile Sto fatto Giuro Prima ne avevo una centinaia Però forse Per avere No Non mi far cadere tu Forse però Per aver scavato tutto questo È Eh vabbè Ci credo Cioè Ho scavato parecchio oggi Per cui È anche consapevole Che le ho finite Andiamo sotto C'è qualcosa Spero che qui ci vedete Oh Daglie Ok No qui È diventata una nuova musichetta Di prima Per cui Sono uscito dall'aria Benedetta Siamo così Sì infatti Qua cambia della skin Non capire cos'è sta zona Cioè raga Ditemelo Qui non so Incontro il boss Quell'occhio gigante Credo sia un boss Questo lo devo tagliare Credo Ah per questo Ma è legno Funghi luminosi No sono funghi luminosi Sovrapposti Che Sì sovrapposti Ma forse è uscito No qua è sempre il posto di primo No 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 Cazzo Cazzo Che c'è qua No niente Madonna mia Per salire Non so più dove andare Perché Cioè No cristo Santo sti cosi Come vedete Ho un sacco di vita No Madonna Sonto E poi E poi dici E poi dici Che Perché Perché mi state sul cazzo Ecco perché Bastardi Piccoli bastardi Oh che cazzo Oh Che cazzo Guardate raga Entra dentro No avete visto No no Raga avete visto Entravo dentro i blocchi Oddio Bug Anche se bug Non ne ho riscontrati Questo è il primo Che ho riscontrato Che mi entrava Dentro i blocchi Vedete In diretta Bug indiretta No Donna santa Oggi Non riesco Anche senza quei cosi Mi uccido da solo Sono Un cazzo Di genio Ma secondo me Solo sta parte Immacolata Da sti funghi Cioè Se salgo sopra Secondo me no Comunque proviamoci Che poi Non lo so Perché è blu È tipo un'aria contaminata Boh E neanche dopo 5 minuti Guardate che trovo Un'altra zona In cui è cambiata La musica È cambiata Dallo sfondo Sotto E c'è questa zona Tipo di ghiaccio Sì Dovebbe essere ghiaccio E poi ho visto Che qui Ho buttato Come vedete La granata Infatti Escolto tutto E ho visto qui Non lo so Tipo Del legno Una casa di legno Una roba Del genere Oddio Che cazzo è Cioè Stranissimo Una casa di legno Sovroterra Ma forse era Tipo Questa Sta scritto Minatore non morto Per cui forse Può darsi Che era dei minatori Può darsi È una Mia ipotesi Ah pure là C'era il ghiaccio Non me ne ho neanche accorto Oddio Io da là sono venuto Vabbè da sopra Ah no Non è ghiaccio Quello è acqua Sto dicendo Vediamo un po' Scusate Mi metto la torcia Così almeno Vedete anche voi Perché Ho visto che Nel video Se non lo ingrandite Non lo mettete A 480p minimo Non si vede Assolutamente bene Anzi C'è una merda Comunque Quel braccio Che ho messo prima qua Questo qui No è quel braccio Ma il braccio sta qua Il bastone Bone Sword È abbastanza forte Anzi È molto più forte Della spada Forse anche perché C'ha queste cose in più Tipo la velocità Eccetera eccetera Ok È molto forte Sì sì Se riesco Forse Vedete Guarda C'è me l'uccide Pochissimo Ok Comunque Io non ci vado conto Però C'è ormai Mi reputo Forte C'è Non è vero Ma c'è schifo ancora Ehm Ok Cazzo Uuuu 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 Alla madonna Madonna Ma che è Uuuu Un altro occhio Specchio magico Guardalo Nello specchio Per tornare a casa Oddio Che figata Oh mio dio Pozione spine No Abbo Non mi interessa Alla fine Controlo della lancia No aspetta No vabbè Non mi interessa Cos'è Tipo una bara Sì Sto boomerang È una meraviglia Osea Poi Il fatto che Quando ritorna indietro C'è più probabilità Di prenderlo Madonna santo Quanti ne so Uuuu Uuuu Oddio Non ci so capire niente Però Sembra che sto Perdendo Non mi c'è Donna Oh Oh E si risveglio legna Che cos'è Cos'è È un Qualcosa che posso prendere No non credo Ok Ah è il loro cadavere La morte Vedai quando mi metto sotto A questa cosa che mi illumino È molto figa Ok Usiamo uno specchio magico Vediamo come funziona Questo specchio Wow Figata assurda E ok Sì Ok dai Diciamo È quasi giorno Senti una presenza malvagia Che ti sta guardando Vedi Leggete In basso a sinistra Senti una presenza malvagia Che ti sta guardando Ma che cazzo è Venga mi fa paura Sta cosa Cioè Allora Questa è la mia casa Tutta in vetro Tutta in vetro Guardate Con scritto Legne XD Oh scusate Non tengo sempre aperto questo Ho legne XD Là in alto Sì questa è una X E questa è una D Lo so Mi è uscito un po' male Ma perché non c'era più spazio Non volevo togliere Questa parte di 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 terra Perché mi piaceva Non lo so Mi piaceva là E niente Quindi ho fatto tutto in vetro C'ho Tutti questi detonaggi Oddio No che cazzo Sono un pingone Sono un pingone Non volevo fare questo Andaccia Fammi togliere da qua No fammelo togliere da qua Altrimenti Io mi teletrasporto In continuazione Anzi questa la mettiamo qua Perché E' stupenda E stavo dicendo Vedete ora Ho tutti questi personaggi Connor the weed Vabbè il mercante L'infermiera Quello che demolisce Credo che sia la maga E Il painter Quello il Ubitatore Come cazzo si dice Il Ubitatore Si si dice così Boh Non ne ho più Per l'idea C'ho paura che Mi si incula Occhio di Gluck Si è svegliato Come si è svegliato Oddio Come cazzo si sopra What do you think is fanfic? Come cazzo si svegliato